amici di autodigest mazda cx 5 2002 di cilindrata 184 cavalli turbodiesel è la prova per voi l'estetica della mazda cx 5 è davvero appagante e nello stesso tempo sobria non è un'auto che dà molto nell'occhio ma guardandola da vicino affascina sempre di più certamente la vista laterale la posteriore come in molti suv attuali non è della massima personalità però come vedremo il nuovo frontale le dà molto fascino è un aspetto decisamente sportivo la parte più nuova del model year 2018 2019 e il frontale secondo gli stilemi mazda attuali molto sottili fari mascherina molto aggressiva molto elegante molto intrigante l'abbiamo visto dalla gente che ci guarda in questi giorni che la stiamo provando per le strade di milano dintorni del veneto dappertutto viene guardata con ammirazione anche con un po di curiosità insomma è un suv premium di classe media atto a fare concorrenza ad audi q3 mercedes clk e bmw x2 x3 su strada come tutte le mazza è molto piacevole da guidare il cambio automatico dialoga bene con i 184 cavalli del motore per una guida decisamente brillante ottimo l'assorbimento delle sospensioni e buona la tenuta di strada il consumo ovviamente dipende dal piede che uno ha se ci si sta attenti si può arrivare anche a percorrere 15 chilometri con un litro in autostrada il comfort è di alto livello e le prestazioni ben oltre le necessità richieste ovviamente dipende da come si guida sempre la trazione integrale permanente molto sofisticata della mazza permette anche di affrontare dei percorsi in fuoristrada leggero ma neanche tanto si possono affrontare anche dei passaggi difficili guidando con attenzione quello che colpisce ancora una volta è la piacevolezza di guida anche in fuoristrada e soprattutto il comfort le sospensioni assorbono bene anche le asperità di uno sterrato impegnativo e per chi abita in campagna è una cosa decisamente significativa gli interni di questa mazza sono di grande livello sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista della cura delle finiture veramente un'auto che può competere ad armi pari con le tedesche cosa che fino a poco tempo fa le giapponesi non potevano vantare beh ha caratteristiche che su altre auto non si trovano il cd e poi ha riscaldamento del volante riscaldamento e ventilazione dei sedili praticamente tutto ciò che si possa desiderare e l'eleganza della mazza cx5 permette di presentarsi con nonchalance e stile a una serata di gala come un concerto della prestigiosa villa giulini di briosco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti